Per prima cosa voglio ringraziare lo sponsor di questo video, CryptoRefils, grazie a cui posso risparmiarvi la fastidiosa pubblicità di YouTube. CryptoRefils, come potete vedere, consente di acquistare su diversi siti web e servizi online pagando con numerose criptovalute. Vi metto il link in descrizione così potete vedere dove è possibile acquistare con CryptoRefils e poi vi spiego anche meglio come funziona. Detto questo, passiamo all'argomento del giorno, cioè le criptovalute con lo staking. Infatti ho voluto fare questo video per mettervi al corrente di una cosa che potrebbe creare dei problemi proprio ai prezzi delle criptovalute che hanno lo staking. Infatti proprio oggi, come scrivo in questo post sul mio blog di cui vi metto il link in descrizione, a causa di una notizia uscita ieri riguardante lo staking su Kraken, il prezzo di Bitcoin è sceso ma in realtà sono scesi tutti i mercati e la cosa di cui voglio mettervi al corrente è il problema, e questo che ho riportato in un altro post del mio blog di cui vi metto il link in descrizione, cioè il fatto che la SEC vuole proibire l'offerta di servizi di staking ai privati, cioè agli utenti retail. Il problema però non è semplice, dovete fare un po' di attenzione e seguirmi, purtroppo dovrò descrivervelo anche un po' in profondità. Innanzitutto diciamo che cos'è lo staking. Ci sono delle criptovalute come ad esempio Ethereum, ma non Bitcoin, che utilizzano per convalidare le transazioni, convalidare i blocchi che vengono aggiunti alla blockchain, la cosiddetta proof of stake. Cioè in poche parole ci sono dei nodi validatori, su questi nodi vengono immobilizzati dei token, ad esempio per Ethereum, per poter far girare un nodo validatore bisogna immobilizzarsi 32 Ethereum, che sono 50.000 euro più o meno, ebbene proprio perché vengono immobilizzati quei token il nodo può convalidare i blocchi. In cambio riceve un premio, un rendimento, cioè in poche parole incassa parte delle fee che vengono pagate dagli utenti sulle transazioni e anche eventualmente un premio in token che vengono creati dal nulla, il solito classico premio dato ai quelli che prima erano miner e che adesso nel caso di Ethereum sono staker. Ora questo rendimento non è fisso e in alcuni casi è alto, in alcuni casi è basso. In questo momento su Ethereum il rendimento, l'APR annuale è del 5,3%, quindi chi mette Ethereum in staking, se questa cifra rimane fissa, in un anno guadagna il 5,3% sempre in Ethereum. Per questo motivo ci sono molti Ethereum in staking, immobilizzati in staking, e questo vale ancora di più per alt criptovalute dove la percentuale di token immobilizzati in staking è anche molto più alta. Ebbene ad esempio per quanto riguarda Ethereum ci sono in totale circa 120 milioni di token ETH, un po' di più, 125, e ce ne sono 16,4 milioni in staking, cioè in poche parole quasi il 14% di tutti gli ETH esistenti al mondo in questo momento è fermo in staking sui nodi validatori. Ma attenzione, installarsi e far girare un nodo validatore è cosa che in realtà fanno in pochi, tant'è che ad esempio per Ethereum servono 32 ETH per poterlo far girare, e quindi la stragrande maggioranza delle persone che mette ETH in staking lo fa affidandoli a terzi, cioè non utilizzando un proprio nodo validatore, ma mettendoli in staking su un nodo validatore di qualcun altro. Ebbene attualmente il maggior fornitore di servizi di staking è Lido che è una DAO, quindi decentralizzata, ma il secondo è Coinbase, il terzo è Kraken e il quarto è Binance. Ora dove sta il problema in tutto ciò? Il problema sta nella notizia che ho pubblicato stamattina sul mio blog, di cui vi metto il link in descrizione, ovvero il fatto che negli Stati Uniti d'America la SEC sta accusando questi fornitori di servizi di staking di farlo in maniera illegale perché risulterebbero essere tutti gli effetti dei contratti di investimento, ovvero delle security non registrate, che non possono essere vendute, proposte, offerte al mercato in maniera lecita negli Stati Uniti d'America e forse anche altrove. Tant'è che Coinbase si è lamentata e probabilmente sarà costretta a smettere di offrire questo servizio e Kraken lo ha per l'appunto sospeso, cioè ha dovuto dichiarare che negli Stati Uniti non fornisce più il servizio di staking. Questa cosa per ora vale solo per gli Stati Uniti e per ora solo su Kraken, anche se molto probabilmente varrà anche per Coinbase e probabilmente anche per Binance, ma attenzione perché il ragionamento che fa la SEC potrebbe essere preso come riferimento anche per tutto il resto del mondo. Ovvero, ve lo spiego meglio. Nel caso in cui uno si installi un nodo validatore e ci metta sopra dei token in staking, non c'è nessunissimo problema. Ma se chi possiede il nodo validatore offre la possibilità ad altri di partecipare, quindi di inviare i propri fondi al gestore del nodo, in cambio di un rendimento promesso, cioè di un guadagno promesso, questo ha tutti gli effetti, come dice la SEC, è un contratto di investimento e quindi deve essere registrato. Chiunque offra un servizio del genere negli Stati Uniti d'America, se non riesce a registrarsi, cioè a farsi approvare praticamente il prospetto informativo da parte della SEC, lo fa in maniera illegale, quindi rischia, tant'è che Kraken pagherà una multa da 30 milioni di dollari. La cosa non si applica invece a servizi come l'Aido, perché è una DAO, cioè un'organizzazione decentralizzata, e di fatto nessuno può imporgli di non offrire il servizio di staking, mentre invece gli exchange lo offrono. Ora, è molto probabile che negli Stati Uniti d'America tutti gli exchange che offrono il servizio attualmente di staking di criptovalute non lo offrono più e non è assolutamente impossibile che la stessa cosa capiti anche nel resto del mondo. Cioè, dei tre modi per fare staking, cioè su un nodo di proprietà, oppure sugli exchange centralizzati, oppure su servizi decentralizzati come l'Aido, uno di questi, quello degli exchange centralizzati, probabilmente è destinato a saltare negli Stati Uniti d'America, quasi sicuramente, forse nel resto del mondo. Ora, per quanto riguarda specificatamente Ethereum, ricordatevi che ci sono in totale 16,4 milioni di Ethereum in staking su 120 milioni di Ethereum in totale. E che, è vero, la maggior parte di questi 16 milioni probabilmente stanno su, se è scritto sconosciuto, probabilmente stanno su nodi proprietari, ce n'è una gran parte sull'Aido, quindi la maggior parte è al sicuro, ma ce ne sono molti su Coinbase, Kraken e Binance. Se Coinbase, Kraken e Binance dovessero prima sospendere il servizio di staking negli Stati Uniti e poi magari nel resto del mondo, che fine farebbero quei token che attualmente stanno in staking su Coinbase, Kraken e Binance? Andranno a finire sui nodi proprietari? No. Andranno a finire sull'Aido? Difficile, perché il mondo centralizzato è una cosa completamente separata da quello decentralizzato. Oppure, semplicemente verranno immessi sui mercati? Non si sa, però la cosa potrebbe capitare. Quindi fate attenzione a quelle criptovalute che offrono lo staking, che sono basate su Proof of Stake, perché è possibile che un numero significativo, anche se magari non eccessivo, non esagerato di token, finisca sul mercato, perché potrebbe cessare il servizio di staking offerto dagli exchange. Se volete, su questa pagina di Crypto Slate, di cui vi metto il link in descrizione, ci sono tutte le criptovalute basate su Proof of Stake e come potete vedere sono tante, sono tantissime, perché il Proof of Stake è molto più semplice da fare del Proof of Work, quello di Bitcoin, quello che prevede il mining, e quindi è molto più utilizzato. Mi raccomando, però, sappiate che il problema è solo parziale, perché riguarda solo l'offerta dello staking da parte degli exchange centralizzati, oltretutto in questo momento solo negli Stati Uniti d'America, e che non è nemmeno detto che se dovesse saltare questo servizio offerto dagli exchange centralizzati, quei token venissero messi sul mercato. Quindi c'è questo rischio, è un po' difficile in questo momento stabilire quanto sia la probabilità che questo generi un aumento dell'offerta sui mercati di questo tipo di token. Staremo a vedere. Ora non mi resta che lasciarvi allo sponsor. Un saluto, ciao! Con CryptoRefix è possibile fare acquisti su tutti questi siti web, questi servizi online, pagando in criptovalute. Ma come si fa? In realtà è facilissimo, perché è sufficiente acquistare su CryptoRefix una gift card pagando in criptovalute, e poi usarla per pagare sui vari siti web. Tra l'altro la procedura è molto veloce, e la gift card arriva via email e non c'è nemmeno bisogno di fare una registrazione. Oltretutto non solo si può pagare in diverse criptovalute, ma anche usando diverse reti. C'è sicuramente l'IT Network, c'è Ethereum, ma ci sono anche Polygon, Avalanche, Phantom, Arbitrum e BSC, cioè la blockchain di Binance. Volendo è possibile anche cliccare in alto e collegare direttamente il proprio wallet a CryptoRefix per facilitare i pagamenti. Vi metto il link in descrizione, così potete fare qualche prova e verificare che effettivamente è molto facile e veloce. Infine, se volete approfondire, vi consiglio di andare nella sezione domande frequenti dove trovate un sacco di risposte a possibili domande che in questo momento vi state facendo.